C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano, mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea, mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme, ma è una festa di laurea, ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi, è incredibile.